A Città Studi Biella si sono discusse le tesi, tesi particolari frutto di un master universitario tessile in lingua inglese alla seconda edizione. Oltre a Città Studi Biella e la Liuc Università Cattaneo, da quest'anno partecipa il Politecnico di Torino, arricchendo il pool di Atenei che si propongono di formare figure di altro profilo professionale che permetta loro l'inserimento a vario titolo nel settore del tessile abbigliamento moda. Un master che già alla prima edizione ha dimostrato essere in grado di offrire opportunità occupazionali. Quasi la totalità degli stagisti presso aziende biellesi hanno trovato risposte concrete. Quindi non solo impegno, formazione e sacrificio ma soprattutto risultati positivi. L'idea del master, unico nel suo genere, nasce a Biella, culla del tessile, specifica Pier Felice Pellerei, presidente di Città Studi. L'obiettivo è quello di soddisfare un'esigenza formativa ad ampio respiro, articolata sulle varie specificità del settore, ricerca, produzione, analisi, commerciale e altre ancora. Una giornata di festa che ha concluso e premiato un periodo felice per gli studenti, aprendo loro orizzonti nei confronti di un mondo sempre più esigente e competitivo. Con l'avvio della terza edizione del master, per il quale sono aperte le iscrizioni, viene confermata la formula didattica di 500 ore di lezione e 500 di stage presso aziende d'eccellenza. Con il nuovo anno, anche due borse di studio di 2.000 euro caduna, donate da Attilio Cerruti, in memoria dei genitori Silvia e Silvio Cerruti.